0-1 0-2 0-3 0-4 0-4 molto bene mi raccomando l'alzata non è eccessivamente alta ragazzi fate più questo è alto molto sì è nostro grazie 0-5 grazie mille non devi svirgolare con le braccia muovi i piedi 1-5 se no si ritornano come prima gli dai sicurezza in battuta e iniziano a forzare scarica il braccio 2-5 aspetta hai chiamato 1 a costo di strappare l'alete se non ci arrivi a strappare l'alete non puoi fare i colpi della merda 1 scarica il braccio dove cazzo cazzo che cazzo fai la palletta allora non la chiamare 1 battuta 2-5 troppo alte queste alzate 3-5 3-6 doppia e trattenuta e mischiato i colori 4-6 4-7 4-8 evidente loro sono a 8 con 4 errori in battuta meravigliosi 4-9 1-2 3-3 5-9 perché le manno di merda lo stringe tenilo sul campo largo che va comunque bene 5-9 bravissimo 5-10 c'entro io mana vado lì mana ancora di là sotto vicino si ma va bene ma va bene 610 non giocate alto sul controsioco è vero insieme a fare il battaglio ormai vicino è sempre il 3 ma per noi vicino è la 3 vicino è la 3 non vuol dire un cazzo è la 3 è la 3 è vicino è vicino no 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 hai saltato in lungo io sei presente in terza è giusto questo pallone 611 bello 612 6 battute sbagliate no questa doppia 712 non serve chiuderla più che altro sapevo che avessi sbagliato da quando hai fatto perché volevi fare forza su qualcosa che non serve 812 812 813 devo prendere il trattempo a Robby è rimasta là devo saperlo che non si muove è più immobili di te 814 814 914 se giocate veloci anche se sbagliate alzate leggermente di là comunque siete in vantaggio 914 1014 15 stop 1014 1014